Salve e benvenuti in Dr. Spy. Con questo video vi presentiamo la nostra microcamera audio-video in DVR occultata in un orologio da polso. All'interno del quadrante dell'orologio abbiamo l'ottica della nostra microcamera che registra audio-video in alta definizione. All'interno abbiamo già una memoria integrata da 32 GB con un'autonomia della sua batteria di circa due ore in registrazione audio-video continuata. Inoltre dispone di piccoli infrarossi invisibili per la visione notturna. Adesso però andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche della nostra microcamera. Ecco come si presenta la nostra microcamera occultata in un orologio da polso. Come possiamo vedere sembra a tutti gli effetti un orologio da polso, è a tutti gli effetti un orologio da polso, con la differenza che all'interno del quadrante abbiamo l'ottica della microcamera che in questo caso è posizionata sul 6, abbiamo appunto gli infrarossi per la visione notturna ed una memoria integrata di 32 GB. È molto semplice da utilizzare, basta indossarlo e dai comandi laterali diamo le impostazioni desiderate, quindi scattare fotografie o registrare audio-video. Trovate il nostro dispositivo presso la nostra sede oppure disponibile direttamente sul nostro sito drspy.it. Grazie per averci seguito, ci vediamo nel prossimo video!